Cari ragazzoli, benvenuti su questo nuovissimo video. Se volete supportarmi nell'item shop di Fortnite, basterà cliccare sul rettangolino in basso a destra e andare a inserire il mio nome, ovvero Croatomis, nel supporto a un creatore. Una volta accettato, ragazzi, il gioco sarà fatto, quindi grazie a tutti coloro che decideranno di supportarmi. Ah, ragazzoli, quasi me ne dimenticavo. Non dimenticate di seguirmi sul mio profilo Instagram. Fidatevi, non me ne pentirete. Link in descrizione. Oh, che canta, ha detto? Guarda che mira che c'ho. Crede che fossi morto, o? No, no, ho detto GG. What? Un timp l'ho fatto. Questo mi ha paddato letteralmente addosso, cioè è morto così, ma sei serio? Atta, dimmi da me. No, 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 no. No, 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 no. la mano strada l'akili la mano strada non è una roba buona buona mi sembra allora ci sono due che riftano e due da me io mi faccio due da me quelli che riftano sono da nord mi riftano da parco ah io sono un team vada ma ok Non me lo oscillare, se no non ho kill. È morto sto cavolo. Io ho un rift. Cioè, sta davvero. Ok, morto. Sto andando io, se vuoi, ah. Prendi questi vuoti, io mi prendo l'altro. Ah, sarò per freddare. Qualcuno? Morto un altro, io stiamo andando le kill. Ok, perfetto. Se ne puoi andare, se vuoi, ah. Ok. Ok, un team da me. Morto. Io ti vengo uno shieldone, non so, vabbè. Non ho senso che ho tutto la febbra. No, no, ho un team da me. Ok, anche io ho due team, uno e mezzo. Stiamo a 34, eh? No. Ah, hanno pure killato. Io ho fatto 70 nel 18 bianco. Certo, ci faccio un team da me. Sì, c'è un team da me. Vabbè, ti sia capito, non per me, ma per farti il team, sa qua. Quindi, restarti non ce la faccio. No, non credo. Vabbè a capire. Dai, sto arrivando. Mi vediamo pure, forse. No, non fai, no, no. Eh, io sto correndo per te, ma non ci arriverò mai per te. No, ma... Aspetta, mi chiediamo di addirittura. No, ma lo facciamo una scelta. No, ma lo facciamo un scelta. No, mi ha fatto un scelto. No, ma lo facciamo un scelto. No, ma non ho acceso, lui. Quello e la che ho messo a one shot. Io ho fatto Cioè mi ha fatto tipo 190 Io ho fatto colpo di pump Più colpo di scarro 70 Abbiamo Avete Questi qua sono arrivati No qua a sinistra Ecco Ti mancano 3 kill E si ha 40 Mi vedo Quanti usi c'ho? Devo ai 5 Alla sopra è 1 hit Siamo a 39 39 kill Yes Ah ne apprezzata Da sud avesse 41 bianco Ti tiro dritto 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 a te Sì Brava CPS Vada vè Sì 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 ho preso dai maggi poi c'è una mazza col tattico 41 bombe giusto? si al momento si si ho pure il barat questo immagino ma c'è una mazza C'è un po' che ha fatto. Dov'è questo? È sceso? Sì sì è sceso Non ho più mazza Dove è finito? Dietro a destra Sì 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 43 bombe let's go Mamma mia barchetta vattene a casa a mangiare capito? Ho già mangiato perfetto brace Mamma mia